ciao a tutti amici carpisti amici Nesh sono qui oggi per presentarvi un nuovo prodotto di minuteria noi di Nesh stiamo puntando molto sul Kevlar il Kevlar è noto principalmente per i materiali antiproiettile noi usiamo il Kevlar per i trecciati nella pesca al carp fishing in questa parte vi farò vedere lo skin link è il nuovo trecciato inguainato che si può trovare in due modi ovvero semi stiff che è il semi rigido e lo stiff che è il rigido in alcuni colori cioè il verde che è il weed il marrone che è il gravel e il grigio nero che è il silt nei libraggi 15 20 25 e 35 libbre andiamo a vedere com'è fatto anticipo che la guaina è veramente difficile rimuoverla con le unghie quindi secondo me è un vantaggio un punto a favore notevole perché molto spesso quando noi facciamo il nostro terminale si ha la parte dove c'è l'occhiello che molto spesso si può rovinare in questo caso no consiglio quindi di usare il l'accessorio appunto per rimuovere la guaina io adoro il 25 libre rimuoviamo una parte come vedete è anche difficile toglierlo con lo sguainatore il filo è bellissimo ragazzi veramente io sono veramente orgoglioso di questo di questo trecciato inguainato ora tagliamone una parte per far vedere come si usa anche come un terminale ecco io nelle mie montature adoro usare l'annellino in questo caso ci faccio un piccolo cappio con l'annellino all'interno e in questo modo l'annellino mi serve anche per bloccare la boyless e far scorrere meglio il filo per creare il capello il tubicino no spook le taglio due pezzettini per creare un blowout con doppio tubicino li metto dall'altra parte ecco preso il nostro clove del 2 faccio passare prima da questa parte e poi dopo faccio passare il secondo tiro su tutto l'amo clove sembra fatta apposta per avere la giusta posizione dei tubicini in questo caso guardiamo per bene di non creare l'effetto ombra per dopo facciamo un semplicissimo nodo senza nodo per accentuare appunto l'effetto line eyeliner è una mia cosiddetta pippa mentale ok poi dopo lo si accorcia in base alle proprie esigenze e questo secondo me è il terminale più adatto per questo tipo di amo e per questo treciato il una presentazione che può essere sia a umino di neve sia affondante ed è tremendamente forte e la guaina come ho fatto vedere prima difficilmente si rimuove e si può fare avanti indietro destra sinistra e non si rimuove anche durante alcuni combattimenti lo skilling quindi viene presentato con queste colorazioni qua adesso vi faccio vedere la parte il guainato rigido come vedete è molto più rigido basta comunque il vapore per renderlo più dritto possiamo vedere possiamo notare come quando si toglie la guaina e il filo all'interno è bello ruvido appunto perché c'è ci sono quei treciati in kevlar che rendono questa caratteristica davvero unica sono prodotti davvero unici fatti dalla kevinish group vengono venuti in bobine da 10 metri sono prodotti veramente di alta di alta qualità detto ciò vi saluto alla prossima ciao